Grande Roushahib, guardaline a livello nazionale, conosciuto in tutti i ristoranti, grande giocatore, ottavo mese, grande promessa del calcio, lui il pallone d'oro, la promessa del calcio italo-marocchino, il grande ritorno, il cugino di Pelè, l'ospite, una promessa del calcio, è lui, è responsabile tecnico, poi mi faccio anch'io, fai il commento, fai il presidente, allenatore, direttore tecnico, direttore tecnico, direttore tecnico, anziano, anche anziano, anche anziano. E voglio essere aspettato in Marocco, 10 giorni. Un giorno o l'altro, Marco lo proviamo, invernato, sai come vuol dire? È un ghiacciato... Adesso andiamo prendendo un pezzo di ghiaccio, per fermarti, per favore... Penso che ha messo un riscaldamento... E' un messo... Eh ho messo che mi sono ammalato e allora ho... ho deciso di... Secondo me, invece di mettere una struttura elettrica... ...e lui fa l'amministratore? No, l'amministratore! Vittorio non commette i carini... I ritori non riesce. Se non potesse nulla... ...come siamo tutti alti anni... ...con il Mineovole che è stato stato foto per i loro anni... ...e l'amministratore che è stato fatto con i nostri amici... Grazie. Bene, finiamo sempre in bellezza.